Se invece si cerca una soluzione alternativa, credo che ci sia la capacità tecnica all'interno della provincia. Ma sarà un intervento risolutivo, secondo lei, o tra qualche anno ci ritroveremo con la Cirentana nuovamente chiusa? Guardi, una frana, quando parte bisogna capire a monte perché partita. Buttiamo questi 7 milioni di euro. No, no, io dico, allora, quando lo Stato decide che dei cittadini devono andare da un punto A a un punto B, non esiste problema ingegnerista, non si può risolvere. Allora io dico, se il progetto viene ben calcolato, viene ben strutturato, non si deve fare in modo che un'opera dopo 3 anni, 10 anni, si parla sempre la stessa opera. Perché altrimenti c'è qualcosa che non quadra nell'argomento tecnico. E se si studia, io dico sempre questo, io quando non so una cosa, dico, non lo so fare. Non lo so fare. Quando c'è una frana bisogna capire perché c'è una frana lenta. Bisogna capire che c'era sotto il terreno, calcrenite, argille e comagna bella. E le dico di più, quando un terreno per anni si bagna e non si fa una tensione dall'alto perché non si scende giù a controllare se c'è il tombino bloccato, l'acqua, per me il miglior colore insieme al sisera. Trovano l'errore degli ingegneri, l'errore degli sciocchi e alla fine questo è successo. Anno dopo anno hanno trovato la strada per bagnare queste argille e hanno fatto piegare la pila. Quindi tecnicamente dice, ingegnere, ma le pile dove vanno? Concorreva una manutenzione più attenta alle giste. Avremmo evitato il disagio. Può darsi che chi ha fatto il progetto non è stato attentissimo. Può darsi che sono cambiati gli scenari geotecnici. Può darsi che qualcuno al mondo ha fatto delle opere che hanno fatto defluire delle acque. che si incalanano in un posto diverso e quindi ci sta il modo per fare delle opere che non si muovano. Noi abbiamo fatto dei pondi, diciamo... Ecco lei, insomma, io qui il suo curriculum, lei parla sicuramente perché è un cittadino di Vallo, un utente della Cilentana, però comunque è un conoscitore di situazioni simili a quella che si sta verificando oggi sulla variante della strada statale 18. Ha avuto lei, insomma, la direzione di importanti lavori. Ecco, parliamo quindi per conoscenza di fatti oggi. Giusto per ricordare qualche lavoro da lei diretto. Ecco qui abbiamo... Sì, però guardi, non vorrei, perché vedi, fare i primi della classe l'ho sempre odiato. A me piaceva stare agli ultimi banchi. Io ho avuto la fortuna, quella di studiare ingegneria per passione e di aver trasmesso questo tipo di valenza, di passione, da mio padre. E ho avuto la fortuna di lavorare in tante regioni d'Italia e a 15 anni di attività svolta, oggi posso dire, ho visto tante cose. E queste cose che ho visto io forse usciranno sui libri fra dieci anni, perché quando si lavora in complessi, diciamo, industriali, che fanno opere da 500-600 milioni di euro, non vuoi inventarti la filosofia del... l'ho visto sui libri. Devi farla, devi farla velocemente, devi farla bene, non devi andare in galera perché devi controllare e di fondo devi fare in modo che il progetto, se è valido, lo fai. Se non è valido, devi avere il potere e la forza di dire no. E io ho imparato a fare questo. Ho imparato a fare le direzioni lavori sulla quadrilato Marche, Umbria, un'opera che la firma da 20 anni, la stiamo portando a termine. Mi ho imparato a fare questo sulle salennie giocabbia e questo mi dà una botta sui piedi perché in effetti protegge la salennie giocabbia da matti. Però io dico di fondo, ragionate che la salennie giocabbia sono 447 chilometri. Non si parla di autostrada, sono 5 autostrade pirla dei milanesi. Perché? Perché ho fatto anche autostrada sulla pedemontana Lombarda, cioè Milano, che sono circa scarsi 100 chilometri. Cioè, vede, 500 chilometri, 100 chilometri. È un'opera indifendibile la salennie giocabbia, è indifendibile perché dopo... che l'hanno fatta in 8 anni quando l'hanno costruita, noi dovremmo essere più bravi, perché non siamo riusciti in 40 anni a finirla? Allora, le dico di più, la salennie giocabbia con un sistema controrente generale, con un sistema veloce, poteva essere svolta e chiusa secondo quelle che le indicazioni che dicevamo noi quando facciamo le direzioni al dirigente, se lo Stato protegge i cantieri, la salennie può essere chiusa nel 2015, ma se lo Stato non fa la sua parte... La Falera Naltilia con la Pizzarotti è un'opera fatta e dove mi sono opposto affinché si passasse in amianto, mi sono dimesso. Perché quando nella vita non si ottiene quello che si pensa, ho detto, visto che ci potrebbe essere un grave rischio per la salute, preferisco dimettermi, però l'opera è fatta. Ecco, a proposito di sicurezza, lei si sta impegnando, è impegnato anche per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, mi riferisco alla vicenda dei Gardarelli. A tuo proposito, la regia forse può proporci un piccolo passaggio della rassegna stampa che abbiamo fatto con lei circa un anno fa, in cui ci diceva sentiamo cosa, poi torniamo in diretta. Ascoltiamo questo passaggio della rassegna stampa realizzato un anno fa, in diretta dai nostri studi. C'è ancora una notizia che vogliamo dare in chiusura, in arrivo il Gardarelli, più economici ma meno sicuri. Chiudiamo con questa notizia. Sì, io spero che effettivamente, diamo la notizia dell'apertura, ma spero che effettivamente venga sventata l'ipotesi di poter rimettere sul circuito della progettazione stradale, quindi sulle strade, Gardarelli di protezione meno sicuri. Sembrerebbe che Bruxelles e quindi l'Italia possano far passare una normativa per il quale i Gardarelli, che attualmente l'Italia ha l'avanguardia, sia per ciò che riguarda la progettazione che la capacità contenitiva, possono essere ridotti sia in questo senso di sicurezza e sia anche per ciò che riguarda poi la vita delle persone, perché io penso che un'opera ha funzioni. Perché c'è una legge che prevede l'installazione di Gardarelli meno sicuri? Allora, attualmente la legge dice che i Gardarelli devono essere testati a crash test, cioè vanno fatte le prove in reale di autobus e macchine, fino a che si vede come si deforma la Gardarelli e che deve assorbire l'energia. A differenza dei Gardarelli americani, che sono rigidi, i famosi New Jersey, perché sono stati spiegati a New Jersey, quindi sono blocchi di cemento, in Italia abbiamo sviluppato una teoria abbastanza vasta. Oggi però sembrerebbe che Bruxelles vuole ridurre questa capacità di contenimento e questo sarebbe un danno, un disastro, perché aumenterebbero sicuramente le morti sulla strada. L'intervento che lei ci ha fatto qualche mese fa, esattamente un anno fa, per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, che cosa è cambiato ad oggi? Guardi, purtroppo tocca un argomento che a me tristemente mi ha colpito poi da vicino, perché in effetti sono stato poi colpito da un lutto familiare, neanche a farlo apposta su un tratto di una strada provinciale, nel tratto che va da Ascea a Ballo. Meglio conoscerlo come Salicuneta. Meglio conoscerlo come Salicuneta, purtroppo ho perso un fratello, però questo è un altro argomento che poi lasceremo altri nella discussione. Allora io dico, cosa è stato fatto? Non lo so, non lo so. Perché vedete, mai profeta in patria, si dice. E tristemente dico questo perché io ho dedicato parte della mia attività professionale ad essere oltre la norma, perché se nella vita non si ha la coscienza, la coscienza o si ha o non si ha, io dico bastano 5 minuti per fare una telefonata e sistemare una persona su un ufficio e ci vuole una vita per sistemare i danni che queste persone fanno, allora io dico se una strada è, una strada deve essere e la strada deve essere fatta con delle norme, quindi la segnaletica è un argomento che va studiato e va visto. Io ho portato quelli che sono i prontuari, io li chiamo i manuali per le giovani marmotte, perché chi non vuole studiare copia, lo diceva Toto, il problema non è fare, è copiare. Allora questo è semplicemente una parte, io le apro così, una parte degli scenari che vengono specificati in una legge e dicono come deve essere fatta a norma per esempio una segnaletica quando c'è una riduzione stradale. La strada è fatta, come dice il termine, da una piattaforma, piatta, dritta, forma, va fatta con una differazione di corsie, quindi ci vogliono delle strisce a terra, bianche e gialle e vanno messi dei pali, significa segnaletica verticale. Se qualcuno non fa quest'operazione qua, prima o poi aumenta il rischio, diventa pericolo. Ecco, ma la sicurezza delle strade a chi è deputata? A chi deve garantirci? All'ente gestore, perché le strade noi da ingegnere le progettiamo in questo modo. Quindi sulla Cilentano l'ente gestore è la provincia. L'ente gestore per parti è la provincia, per parti è l'ANAS, perché poi questo non l'ho mai capito da ingegnere. Io faccio i progetti quando mi dico l'ingegnere, lei deve passare, ecco qua si vede una fotografia. Io quando progetto una strada faccio vedere che se mi danno il combino di progettare una strada che deve essere percorsa in 30 km, la prima cosa da fare è stabilire la velocità. A che velocità può essere sicura questa strada? Stabilita la distanza, che è certa, la regola è molto semplice. In questa foto che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere a terra una striscia bianca che rappresenta la corsia, un camion davanti che mi blocca la corsia, cioè io non vedo più a questo punto. A destra si vede un segnale giallo, rosso, che sarebbe un segnale che c'è qualche problema davanti e quella parte laterale, dietro il primo del muro, si chiama banchina. Perché banchina? Perché se un operatore si distrae, un guidatore si distrae, la legge dice che ci deve essere un tempo affinché l'errore non sia mortale. Quindi lei immagina, questo è un dritto, cioè un rettilineo, se io ho davanti un camion che non mi fa vedere avanti cosa devo fare, e azzardo un sorpasso, sicuramente se ho... Quindi non è sicura questa strada? No, è sicura in questo senso, perché se io ho il limite verticale che mi dice non superare, cioè il limite verticale che dice non superare la velocità, non fare il sorpasso, c'è la striscia continua, un guidatore dirigente sa che non deve farlo, ma se casomai lo fa, deve avere la possibilità di non morire, perché fa una scelta forse... Secondo lei al momento le nostre strade, a partire dalla Cilentana alla Sala Iconeta, di cui abbiamo ricordato l'episodio personale, purtroppo che l'ha colpita, sono strade sicure, così come ce le presentano gli enti competenti? Lei è ottimista a parlare di strade, io non le vedo, perciò parlo di ingegnere, le strade sono fatte da un nastro, piattaforma stradale, se la strada è avallata, fa così, per me non si può chiamare strada, se qualcuno nella sua testa è convinto di poter dire, io il mio, la mia cartuscella la faccio, e alla fine la mia cartuscella rimane su una scrivania, e la mia cartuscella dopo X anni nulla cambia perché non mi interessa, le dico di fondo, io vedo sempre l'erba a margine delle strade, l'acqua non può defluire, non vedo le banchine, la banchina sarebbe lo spazio di protezione delle strade, non vedo nessuno che fa niente, l'unica cosa che vedo è, le famose medagliette si mettono davanti alle strade, e si fa una questione di possesso, quando più roba ho in mano, più sono contento, ma è allucinante, una strada innanzitutto deve consentire agli utenti di passare da A a B, non che si possa ridurre la velocità perché ti vuoi parare il fondo schiena, e se si fa questo, la prima scusa che sarà data da chiunque parla di strade, ma non ci sono i soldi, allora quando ci sono i soldi si ferma un giorno la macchia del dirigente, e quei 100 euro di naffra, e i 100 euro di naffra del cantoniere, che sia A, B o C, forse piano piano si inizia a mettere le mani nell'erba e si inizia a sradicare l'erba, poi si mette le mani nel portafoglio e si fa con 50 euro un metro di guarda rail, vedi, con due giornate lei ha 200 euro a disposizione, e con questo vottica qua si gestisce la strada. garantire più sicurezza sulle nostre strade. Io dico, se uno vuole gestire le strade deve poterlo fare, non si può dire, ma io non ho i tecnici, non ho i soldi, e allora dimettiti, e allora non lo prendi in carico la strada, lasciala fare agli altri, perché le schiamotagiche si usano spesso, i comuni prima avevano, le faccio esempio di Val della Lucania, mi permetto perché la mia città, anzi il mio paese, perché io non la chiamo città, perché semmo siamo tornati indietro su certi passaggi, c'era la SS18, la strada, come dice il nome, strada statale 18, chi l'aveva costruita era l'ANAS, alla fine non so perché è diventata inglobata nel centro urbano, se lei passa su Val della Lucania, io ho la fortuna di uscire, la cosiddetta variante, io ho la fortuna di passare la mattina presto per lavoro alle 4 e mezza 5, mi accorgo che se scendo dalla zona di Massagioi e vado verso l'autostrada per prenderla, il tratto destro, vedi ci sono delle luci, sono staccate, praticamente l'impianto elettrico viene staccato come se fosse una strada interna, ma se prima questa era una strada statale, la strada statale era una norma, deve essere illuminata, perché più è larga, più i pali devono essere invittiti, se lei ha la sfortuna di passare vicino a questa strada, troverà dei pali che sono caduti, quindi non c'è più illuminazione, non vede più le strisce bianche dentro, non capisce qual è il passaggio a livello oppure il passaggio pedonale, il comune ha gestito questo tratto facendo diventare centro urbano, e se qualcuno la mattina ha la sfiga di sbattere fuori nella corsia destro perché non vede, e non c'è più il guardarei, quella persona ha l'amore, non mi si venga a dire che è la strada e non c'erano soldi, bisogna avere la coscienza, poi la professionalità e poi parlare, vediamo cosa possiamo fare, io quello che posso fare nella vita lo faccio, senza aspettare che qualcuno me lo dica.